Non pare che stia venendo bene. Non pare che stia venendo bene. Devi uscire da quell'armatura atomica. Buon pomeriggio. Siete sintonizzati sul Radio Freedom che trasmette in tutto il Commonwealth. È tutto tranquillo, proprio come piace a noi. Evitate i pericoli là fuori, gente. E il mio scopo primario non è il combattimento. Non voglio che mi fanno Margaret. Sì, sì, sì. Sì, sì. All right, buddy! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Buon pomeriggio! Siete sintonizzati su Radio Freedom che trasmette in tutto il Commonwealth. È tutto tranquillo, proprio come... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.